C'è voluto del tempo per assumere la consapevolezza della donna che sono. A vent'anni, ma anche a trenta, ero profondamente diversa. Oggi Kasia Smutniak di anni ne ha trentotto e per la prima volta ha deciso di mettersi completamente a nudo per un servizio fotografico. Lo ha fatto per Vanity Fair, che le ha dedicato la copertina del settimanale in uscita il 25 aprile e una lunga intervista. Si legge su Vanity Fair. Ho mimetizzato la mia parte femminile e l'ho nascosta allo scopo di essere presa sul serio. Adesso ho 40 anni, sento che è il momento di tirarla fuori con grande tranquillità. Capire che non avevo più il bisogno di travestirmi è stata una liberazione. E sono stata felice di mettermi a nudo. Parliamo sempre di libertà delle donne, ma spesso ci vestiamo e ci comportiamo da uomini. Io per anni la gonna non l'ho messa mai. Mi sentivo ridicola e avevo paura di essere fraintesa a volte proprio dalle donne. Noi donne spesso siamo le prime a giudicare un'altra donna anche da come si veste. Se entra una ragazza con la gonna la prima cosa che pensa l'uomo non è questa è una puttana, ma ha al limite che belle gambe. La donna invece spesso pensa questo è proprio fuori luogo. Sul movimento metto e i cambiamenti che ha apportato, non solo nel mondo dello spettacolo, lei ha le idee chiare, è favorevole, ma non deve degenerare in qualcosa di diverso. Le donne devono avere gli stessi diritti dell'uomo, ma non si può pretendere, come auspicavano le femministe negli anni settanta, che siano uguali a lui. È una forzatura. Uomini e donne sono complementari, ma è uguali. Ci dobbiamo sostenere a vicenda, non proteggerci. Rivendico la libertà di sedurre ed essere sedotta. Perché la seduzione è diversa dalla violenza o dalla prevaricazione. Casia è una donna determinata e consapevole di ciò che vuole, lo è sempre stata. Punto è andata contro la famiglia per la quale lavorare nel mondo dello spettacolo non era un vero mestiere, almeno non un mestiere sicuro. Mi prendo un sabbatico, disse loro dopo il liceo, un anno che non è ancora terminato. Cresciuta in Polonia, tra i suoi primi ricordi ci sono i rumori degli aerei militari. Quando rombavano per scaldare i motori la lezione si interrompeva. Appoggiavamo i libri sul banco, smettevamo di parlare, aspettavamo che passasse. Qualche anno fa, a un gran premio di Formula 1 ho risentito lo stesso rumore e mi sono commossa, questa è casa mia, ho pensato. Non solo l'infanzia, ma anche l'età adulta è costellata di ricordi difficili. Tra tutti, la perdita del compagno, Pietro Taricone, morto a causa di un incidente con il paracadute. Non ho mai creduto che per poter andare avanti si debba cancellare ciò che è venuto prima. Respirare significa anche regalarsi l'illusione di dimenticare, ma se dimentichiamo non possiamo migliorare. E vivere e lavorare e portarsi tutto dietro. Altrimenti sopravvivi, non vivi.